Alfonso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Presidente, grazie. Ringrazio anche il rappresentante del Governo, l'Onorevole Gava, e dico subito che mi soddisfa l'impegno profuso. Si tratta di un impegno che ha fatto emergere la questione e descrive anche serietà di approccio e, si direbbe oggi, serietà di postura. Invece chiedo che si produca di più per quanto riguarda il merito contenutistico dell'impegno che si assume come Governo, poiché il problema è reale come è stato riconosciuto. Noi abbiamo come ordinamento quattro attività. C'è l'attività della legislazione che riguarda esclusivamente il compito di questo Parlamento e dell'altra Camera. Abbiamo l'attività riguardante la giurisdizione, che chiamo in causa i magistrati. Abbiamo l'attività dell'amministrazione, che chiamo in causa la tecnè, e poi abbiamo l'attività di regolazione. La regolazione è nata per riempire, diciamo, il vuoto tra la generalità della norma e la particolarità delle fattispecie quando sono in corso attività contrattuali, per esempio, da parte di erogatori di servizi pubblici a domanda individuale e collettiva. Nella fattispecie dell'erogazione del gas, dell'energia elettrica, noi abbiamo dei veri e propri contratti che si perfezionano al momento nel quale si chiede e al momento nel quale si soddisfa la domanda. Non può accadere che in un tempo come quello che stiamo vivendo, qualificato da tutti come un tempo segnato da rotture di civiltà per l'alto costo dell'energia, per l'influenza di fattori anche internazionali, che l'amorosità involontaria venga trattata con arbitrio e con prepotenza. Quando c'è l'amorosità in un rapporto contrattuale ci sono atti tipici da porre in essere. Quali sono le tipicità degli atti da porre in essere da parte dei distributori verso il cliente finale, verso il consumatore? Intanto la messa in mora, con i tempi previsti e prestabiliti per la messa in mora, poiché la messa in mora ha un valore, consentire il recupero della situazione contrattuale. Allora non va bene che colui il quale, soggetto giuridico, eroga la prestazione tratti come zolla di carne sociale colui il quale ha difficoltà di adempiere all'impegno contrattuale. Allora la delibera di Arera va nutrita con i fatti nuovi accaduti in questa realtà sociale, economica e internazionale. Se abbiamo da una parte il Consiglio dei Ministri che concepisce misure per aiutare l'acquisto dell'erogazione di energia elettrica e di gas, poi non possiamo non rivedere le modalità attraverso le quali si indennizza e si risarcisce colui il quale è stato strapazzato dal soggetto erogatore di quella prestazione. 20 euro come indennizzo per un'utenza domestica fa sorridere, assomiglia, direbbe d'annunzio, a saliva, alla saliva e non all'indennizzo, così come 30 euro per un'utenza domestica che è stata interrotta o ridotta in ragione di una morosità involontaria che non è stata interloquita da attività tipiche di quel soggetto incaricato di erogare per conto sia di domande collettive che di domande private. Anche la pubblica amministrazione dei piccoli comuni è stata trattata così. Allora che cos'è che chiedo al rappresentante del Governo, della quale io devo dire che c'è stato impegno nello scarnificare ciò che non va, perché c'è molto che non va. Adeguiamo gli indennizi. Un indennizzo deve essere capace di indennizzare e non di fare ipocrisia. Io dico sempre che in Italia ormai la distinzione è così, tra chi fa e chi fa finta. Noi non dobbiamo fare finta di indennizzare. Portiamo gli indennizi da 20 euro a 200 euro per coloro i quali ricevono servizio come utenza domestica. A 1000 euro coloro i quali ricevono servizio come utenza economica. È possibile fare questo? Continuiamo con la serietà evidenziata oggi.